La vittoria con la firma di Salvatore Aloi, io credo che davanti a uno stadio così pieno, 13.000 spettatori, entrare e segnare subito è il sogno di Chiunga. Sì, assolutamente, lo sognavo di sentire il mio nome che veniva esaltato in tutto lo stadio e sono contentissimo di aver dato la vittoria alla squadra. Raccontacela quell'azione. Niente, ho visto che Rafi portava palla, a un certo punto appena ho visto che caricava il calcio ho detto battezzo quell'angolo, mi butto e sperando di fare golle così è stato. È stato un golle importantissimo, uno dei più importanti della tua carriera? Sì, 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 si può dire uno dei più importanti e niente, sono contento. Soprattutto hai dato un'altra dimostrazione a Zeman di quanto sei importante? Sì, sì, cerco sempre di farmi trovare pronto perché non è mai facile subentrare nei match, cerco di stare in partita sin dall'inizio e possibilmente quando entro cerco di stare ancora in partita e di dare sempre il massimo ad aiutare i miei compagni. Perché sai come si vincono questi campionati e ti salutiamo. Sì, 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 rabbia, cattiveria, cuore, così. Sorriso davanti alle telecamere, in campo non si sorride. In campo zero sorrisi, a fine partita poi ci vediamo anche se c'è il ritorno e che dobbiamo affrontare un'altra battaglia che hanno dimostrato di essere presenti in casa loro.